Basta, distruggerò questa roba! No, a quello ci penseranno i corrieri! Aspetta, aspetta! Questo incredibile aspirapolvere per la tua casa automobilistica può essere tua a soli 0 euro! A 0 euro? Ma certo, approfittane subito! Molti utenti stanno già respirando con questo aspirino! Respira briciole e peli di zio Gaetano! E come faccio a prenderne uno? Facilissimo, lo compri! Fallo prima che si rompa durante questo video! I nostri spedizionieri lo stanno già lanciando verso casa tua! Ma quindi posso richiedere reso gratuito? Rispetta le normative CE! Se non mi arriva dopo tre mesi posso chiedere il rimborso! Qual è la vostra etica lavorativa? Zitte e mute! Guarda qua, è realizzato con materiali! Non ci credi? No! Zitte e mute! Gustati le recensioni migliori! Bello, lo arriverò! La scatola è arrivata! Il prodotto no! Raccomando il venditore al prodotto! È morbida, fa un piacevole rumore da spenta! Bello! Approfitta dell'imbarcazione gratis per il primo ordine di euro-dollaro!